perché questa giornata all'interno di un'azienda toccato e vedendo la praticità di quello che facciamo tutti i giorni vi possa far ritornare al lavoro con i vostri professori più carichi di prima perché lavorate in un settore dove le parole chiave sono la bellezza sono il sogno e sono anche il contatto con la natura quindi non c'è niente di più bello è esagerato fare una cosa ancora più a scomparsa la battiglia sta fatta per rendere più estetica la barca se invece ci ponessimo che volevo far sparire questa binta grazie a tutti